bentornati bentornate allora oggi vedremo una novità che sarà disponibile da novembre quindi non è disponibile ancora all'interno del nostro store la vediamo perché è stata pubblicata una foto e moltissime di voi mi hanno scritto quindi da novembre sarà disponibile intanto vi chiedo di lasciare un like a questo video e di iscrivervi al nostro canale youtube perché ogni settimana vedremo un prodotto diverso e poi inizieremo a vedere un determinato prodotto per una determinata fisicità allora oggi vediamo insieme il body luce ho deciso di dare questo nome a questo bellissimo body che troverete all'interno della collezione black swan perché oltre a la combinazione dei tessuti quindi c'è una combinazione del tool e delle copelle che sono comunque entrambi due tipologie dei tessuti molto luminosi ho pensato di chiamarlo luce pensando proprio alla figura femminile perché per me in realtà la donna è una luce nell'universo quindi ho deciso di dare questo nome a questo a questo body andiamo un po più sul dettaglio allora nella parte superiore troviamo appunto un tool che è elasticizzato e veramente morbidissimo è un body a manica lunga e il finale è un polsino in ecopelle che non ha bottoncini andiamo nella parte inferiore dove troviamo l'ecopelle tessuto molto luminoso ok che ha bisogno anche di una particolare manutenzione quindi attenzione quando lo lavate mi raccomando dove abbiamo anche una zip color oro a contrasto la cosa bella di questo body è che a mio avviso può essere indossato in varie occasioni quindi adesso ne vediamo alcune versione numero uno diciamo una versione un po più riservata un po più intima ho inserito sotto il nostro balconcino della collezione black swan è un balconcino con ferretto abbiamo visto nel video precedente il modello verdone è lo stesso tipo di modello ma cambia la variante colore le spalline sono regolabili in questo caso e rimane un effetto molto sensuale seducente sotto al body luce secondo look seducente e accattivante dove ho inserito sotto la balconette nate che la trovate sempre all'interno della collezione black swan questo abbinamento lo consiglio magari sotto un pantalone vita alta sempre o sotto una donna vita alta questo perché il body luce ha una colottina dove la parte diciamo delle copelle arriva fino alla vita quindi è abbastanza alta per andarla a coprire consiglierei un pantalone vita alta che altro dire la balconetta interna quindi che troviamo sotto è imbottita con ferretto e alle spalline regolabili in questo caso l'apertura e la chiusura la troviamo nella parte frontale look numero 3 in questo caso ho utilizzato un body ho scelto il body suite loto eccolo qua la coppa imbottita con ferretto in questo caso il body ha l'apertura e la chiusura sotto con gancetti l'effetto è un effetto molto più delicato quindi magari questo tipo di outfit non so potete andare ad un compleanno una cena e rimane davvero davvero molto delicato ed elegante siamo arrivati alla fine se avete qualche domanda in particolare sui vari prodotti potete commentare il video qui sotto e risponderemo insomma tutte le vostre domande oppure potete anche utilizzare la chat whatsapp che trovate sempre all'interno del nostro store www.malenaligeri.it ci vediamo al prossimo video ciao